Abuso d'ufficio, diffamazione, minacce, danni d'immagine. Sono solo alcuni dei reati per i quali è stata avviata l'azione legale per conto di Alessandro Forlenza, titolare dell'Hotel Angel, adibito a strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati del comune di Capaccio, che ha denunciato il deputato del gruppo parlamentare immigrazione Khalid Klauchi e l'amministrazione comunale guidata da Stato Italo Voza. L'imprenditore ha dato mandato all'avvocato penalista Michele Sarno dopo le pesanti accuse lanciate dal parlamentare PD circa presunte minacce e aggressioni agli immigrati, fatto anche con l'uso di una pistola, rifugiati o richiedenti asilo, 35 profughi di nazionalità afghane e pakistana ospitati presso l'Hotel Angel, struttura gestita dall'Angel Italia SRL e dall'associazione Angel for Life Centro Spral, cui poi ha fatto seguito anche la revoca da parte del comune della convenzione all'associazione che gestisce il centro, con il trasferimento degli ospiti in altri luoghi. Gli accertamenti che sono stati effettuati fino a oggi, a due ore di distanza, è intervenuto il personale della Dicos che correttamente ha fatto una verifica, non ha trovato pistola, non ha trovato nulla, sono intervenuti in ass, hanno trovato un albergo in perfetto stato per quanto riguarda il fatto igienico, hanno trovato gli alimenti in perfetto stato di conservazione, cioè perdonateci, veramente allora diventa assurdo. E allora anche Forlenza ha voluto raccontare la sua verità, è nato un contrasto con questi migranti legato al fatto che questi migranti, nonostante ospitati nel nostro paese, nonostante rifugiati politici, accolti con tutti i crismi dell'ospitalità che ci caratterizza, qualcuno di loro voleva stare da solo in camera. La gran parte di loro, essendo logicamente musulmani, volevano cucinarsi in camera. Lui ha detto, ma io ho la cucina, io vi compro gli alimenti musulmani e neanche andava bene. Ma allora io non ho capito, cioè io credo che tante attenzioni, alle volte il nostro Stato non le riservi neanche ai propri cittadini. E rispetto a tutto questo, secondo Forlenza, si è creato questo contrasto e da questo contrasto è nato questa accusa infondata, Fasulla, come lui ha detto oggi in conferenza stampa, un'accusa che poi ha fatto parte di un progetto da parte di questi migranti perché addirittura hanno cercato di condizionare altri per far dire la stessa cosa. E non è accettabile.